Vi siete mai chiesti come sia possibile avere opinioni così differenti riguardo allo stesso posto? Nel caso di questo canale, il Giappone? Ovviamente alcuni aspetti del luogo geografico preciso in cui si trova possono influire notevolmente. Un triestino abituato al tipico forte vento della sua zona potrebbe trovarsi spiazzato agli inizi nel cominciare una nuova vita in Okinawa, l'estensione tropicale del Giappone. Così come un siciliano nato e cresciuto nelle terre baciate dal sole soffrirebbe il gelo nell'Hokkaido. Ma al di là di questo, quello che in realtà è strano sono le diverse opinioni sugli stessi dati. L'ordine delle grandi città, il funzionare della sicurezza, il tenore e la dignità della vita. Con questo video proveremo a dare qualche risposta. Sono ormai molti gli italiani che seguono vari blogger e youtuber italiani che vivono in Giappone. Alcuni addirittura ne parlano senza neppure viverci, quindi ignorandone molti aspetti. Tra le varie domande che ci sono arrivate ci è balzata all'occhio questa. Ma è vero che le case dei giapponesi sono così sporche? Non sappiamo da chi sia partita tale affermazione o chi l'abbia poi ripetuta, ma la domanda ci ha sempre lasciato spiazzato ed è una questione che non ci è mai saltato in mente di trattare. Cosa dire? In che modo parlare di un'abitazione di un giapponese? Qualora un tedesco o un francese o quel che l'è vi chiedessero, ma le case degli italiani come sono? Cosa rispondereste? Il primo impulso penso sarebbe quello di basarci sulla vostra stessa esistenza, casa vostra, quella dei vari parenti, le case degli amici che avete avuto modo di visitare. Ed è stato proprio mentre ci ribalzava in testa questa frase, che abbiamo avuto la risposta a questa e molte altre domande sulle opinioni riguardo la vita in Giappone per un italiano. Esperienze personali. Ma allora la frase, le case dei giapponesi sono sporche, da dove nasce? O ancora più importante, perché viene detta o scritta? Partendo dal presupposto che l'autore o autrice non voglia deliberatamente mentire, oggi va di moda tanto adossare difetti al Giappone, anche quelli inesistenti. L'unica risposta sono le esperienze personali. L'autore e autrice X ha avuto modo di frequentare abitazioni sporche, immaginiamo in vari luoghi e in occasioni diverse, altrimenti non si sarebbe potuto fare l'idea che questa condizione sia comune e generale. Come questo sia possibile dipende da tanti fattori. Potrebbe vivere sfortunatamente in condizioni disagiate e quindi essersi fatto amici nelle stesse condizioni. Potrebbe frequentare gente con scarsa cognizione dell'igiene e dell'importanza di questo nella vita quotidiana. Che sia per sorte o per scelta, è comunque un dato di fatto che se questa affermazione è rimbalzata per varie bocche virtuali, evidentemente qualcuno l'ha detta o scritta, basata sulla sua personale esperienza. C'è da stupirsi? Purtroppo no. Anche in Italia è innegabile che vi siano persone sfortunate, che non possono curare più di tanto le condizioni igieniche della propria abitazione. Come è vero anche che ci sono elementi che non se ne curano perché non la reputano importante. Abbiamo un dato di fatto, così semplice è ovvio che ognuno racconta ciò che vede, ciò che vive, racconta come vive. E da qui tutto il resto è facile da spiegare. L'autore del blog X scrive che il Giappone è un posto affascinante e romantico, e tralasciamo chi lo fa per fini commerciali, ovviamente. Evidentemente ha la fortuna, e magari se l'è sudata questa fortuna, ma non è questo il punto, di vivere in un bel posto, circondato da vari affetti, amici, una buona situazione economica e un tenore di vita dignitoso. Lo youtuber Ypsilon afferma che il Giappone è costoso, ma divertente e luminoso. Probabilmente vive in posti come Shinjuku, pieno di grattacieli, locali, altamente frequentato da belle persone, magari in una grande città. Oppure ha tanti amici e un pub di fiducia che frequenta, ma ha un lavoro che non gli offre entrate mensili, che gli possono permettere lo stile di vita che vorrebbe, e quindi percepisce il tutto come costoso, anche se non necessariamente lo è oggettivamente. E l'utente Facebook che vive in Giappone e dice che le case dei giapponesi sono sporche? Sfortunato a vivere in tali condizioni, e ad avere amici parenti nelle medesime condizioni, oppure sarebbe meglio che riveda le persone di cui si circonda? E quel commento anonimo che dice che vivere e lavorare in Giappone fa schifo? Quella foto di impiegati distrutti che dormono in pose scomposte in luoghi improbabili, con commenti del tipo, è questo il destino di chi vive in Giappone? Beh, intanto che fantasia andare a beccare un momento del genere, e ha avuto la prontezza di farne uno scatto, ma se riesce a commentarla credendoci, così allora ci dispiace, per la vita dura ed evidentemente è priva di soddisfazioni che fa. Se nell'arco della sua giornata ciò che vede e gli rimane più impresso, tanto da divenirne testimone è questo, evidentemente il resto non era purtroppo migliore. Prendiamo la testimonianza di Sasori, un italiano che vive a Kyoto. Lui del suo tragitto da casa e lavoro ha l'immagine mentale del bellissimo tempio buddista che costeggia. Magari in una giornata particolarmente faticosa, dove ha avuto solo insoddisfazioni, litigio, che comunque è andata male, del tempio non gliene può fregar di meno. In una giornata particolarmente bella magari ricorderà maggiormente ciò che l'ha resa tale, ma di un giorno qualsiasi probabilmente è quel tempio che gli rimarrà in mente. E nel caso di Seba il pranzo o i capelli davanti agli occhi. Scherzi a parte c'è uno spezzone di un film che ci balsa la mente. Il protagonista ne sta passando di cotte e di crude, non è per nulla messo bene, non ha un soldo e ha pure fame. E sonno! Se ne sta in piedi in una metropolitana, schiacciato da una marea di uomini grigi, tutti con la faccia triste e mezza addormentata, che abbiamo un po' tutti, quando la mattina d'inverno ci ritroviamo alle 7 a dover andare a lavorare. È l'immagine del disagio. Se lo avessero fermato ed intervistato, cosa avrebbe detto riguardo alla sua vita, situazione o luogo? E nella stessa metropolitana, il giovane ragazzo innamorato che, nonostante la pressione degli esami, con le cuffie nelle orecchie che mandano la sua canzone romantica preferita, mentre va all'università sapendo che l'incontrerà la sua amata, ha la stessa faccia, la stessa espressione. Le persone accanto a lui sembrano davvero le stesse, grigie e tristi di prima, nonostante sia lo stesso punto della stessa metropolitana. Punti di vista, condizioni, esperienze ed emozioni. Il Giappone, e così come il resto del mondo, in realtà, è uno solo. Non cambia attorno al singolo, ma è il singolo che lo vede in modo diverso, a seconda degli occhi con cui lo guarda o lo può guardare. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafinini nei maggiori digital store. E se vi va seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti. Grazie a tutti.